Martedì, martedì 28 maggio, ben ritrovati, ben ritrovati, come state? Questo è Good Morning Milano e questa è Crystal Radio, come tutte le mattine inizia intorno alle 7, oggi 7.09, qualche minuto in più, ma insomma degno di essere ascoltato quel minuto in più, perché insomma c'erano i Beatles con All You Needless Love, il Crystal History, il Crystal History delle 7, ogni ora lo sapete, una canzone storica va in onda qui su Crystal Radio, ma vi datevi di me, anche le altre canzoni non sono niente male, ma lo sapete se tutte le mattine ci seguite, se invece siete nuovi o nuove, benvenuti o benvenute anche però a chi appunto tutte le mattine è qui con noi, insomma la mattina inizia a quest'ora, inizia qui su Crystal Radio, inizia il morning show dei milanesi, la vostra sveglia quotidiana e grazie come sempre di farci entrare nella vostra routine mattutina, insomma facciamo parte della vostra skin care, dei vostri lavaggi di denti, delle vostre pratiche del mattino che non voglio andare a indagare, magari oltre preferirei far parte della vostra colazione, ecco diciamo quello, siamo magari quella spruzzatina di cacao che si mette sopra al cappuccino, va bene ecco sì, o la cannella per quelli più esotici, va bene dai, allora 3317853555 il nostro numero di whatsapp è qui pronto davanti a me a ricevere i vostri messaggi, le vostre foto, i vostri auguri, se oggi qualcuno fa il compleanno facciamo gli auguri, va bene così, apriamo la rubrica degli auguri anche, no perché ieri mi ha fatto gli auguri praticamente a chiunque, c'era Bruno Vespa mi ricordo anche, insomma, tanta gente, comunque la musica è la protagonista, dopo però di voi, voi siete i primi protagonisti, poi arriva la musica 3317853555 e invece la musica su Crystal Radio, 96.2 FM, Dub Plus, l'applicazione per app iOS e Android e il sito internet crystalradio.it Il bene nel male, madame, alle 7 e 15 minuti qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, dove arrivano già i vostri whatsapp al 3317853555, come quello di Alberto che dice un saluto a Fabio e un saluto a tutti i cristallini, questa mattina vi ascolto ancora dal letto perché non sto molto bene, e allora? E allora Alberto, noi ti siamo vicini, cerchiamo di darti supporto in questo momento, sperando come dici tu nel tuo messaggio, in attesa di ritornare in forza, buona giornata a tutti, buona giornata a te Alberto. E' stato bello conoscerti così? Forse è un po' troppo così, no? Ma teniamo invece questo tetro sottofondo musicale perché c'è un'altra notizia molto tetra per noi milanesi. Ebbene sì, ecco no, andata via perché se cambi il sito non si sente più la canzone, guardate, sentite, eh, tac, non va più, va bene, va bene, come al solito, eccola qua. Comunque, cosa succede? C'è lo sciopero in arrivo, ebbene sì, lo sciopero ATM. Ebbene sì, allora, ebbene no, e male sì, allora sciopero dei bus e metro Milano, venerdì 31 maggio, leggiamo da Repubblica Milano, gli orari a rischio tra i tardi e le fasce garantite. La protesta è indetta solo dal sindacato Alcobas, dell'azienda dei trasporti milanesi, chiesto un aumento di 150 euro per tutti i dipendenti. Spero porcapite, perché insomma 150 euro per tutti i dipendenti è un po' poco. Comunque, venerdì 31 maggio a Milano, il sindacato Alcobas, che sappiamo ogni tanto tira su un po' di gente, quindi attenzione, ha proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici da TM. L'azienda informa che l'astenzione del lavoro potrebbe avere conseguenze sulle linee di bus, tram e metropolitane, degli orari classici che ormai conosciamo. Potremmo fare una maglietta con quegli orari lì, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Ci sono quindi le solite fasce di garanzia, il mattino appunto fino alle 8.45 e poi il pomeriggio tra le 15 e le 18. E' questo, nel senso che non so che dirvi più, nel senso che è l'ennesimo sciopero dei mezzi. Sappiamo che hanno anche delle buone ragioni in realtà i dipendenti ATM per protestare. Sono tante le ragioni, sono una più condivisibile dell'altra, però effettivamente è sempre sempre troppo complicato. Dobbiamo trovare, io vorrei capire, non esiste, perché il problema è che i cittadini, non c'è una rappresentanza dei cittadini, che non sia politico ovviamente perché la mente non va bene, che si incontri con ATM e dice studiamo un nuovo tipo di protesta, un nuovo sciopero. Perché tanto poi, sciopero che dà fastidio anche a quelli che fanno ATM, perché tutti non vengono pagati, lo sappiamo, solita storia nel senso, ma che magari appunto anche loro hanno bisogno di muovere. E non è così semplice questa cosa dello sciopero, è facile urlare subito e dire che palle, sempre i soliti, vi fate il weekend. Ma non è così, non è quello il tema, anzi, dobbiamo cercare di capire le giustissime ragioni che hanno i dipendenti ATM per chiedere, le istanze che portano avanti sono una più condivisibile dell'altra, dobbiamo riuscire poi a trovare una soluzione, secondo me, per cui, non ATM, scusate, dipendenti, sindacati di ATM, all'interno di ATM, insomma, una soluzione per cui i cittadini, anzi, siano al vostro fianco, cioè voi avete bisogno che la città sia al vostro fianco e non che la città sia arrabbiata e sempre incavolata con lo sciopero ATM. Talifatto è comunque il punto, sciopero ATM, venerdì 31 maggio. Siete pronti? Non lo so. Io non sono pronto neanche a uscire oggi, ma mi cerco di preparare grazie a Luce Verde che mi dice che cosa succede nelle strade a Milano in questo istante. E allora, Luce Verde. Maroon 5, cold, 7.23 minuti e subito andiamo a collegarci estremamente al nostro studio perché andiamo in quella di Lambrate, in via Conte Rosso, anzi, all'edicola Lambrate dove c'è Alessandro. Buongiorno, Alessandro. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Allora, in diretta dall'edicola Lambrate, l'edicolante, no? Giusto? Così mi chiamano adesso. Ma che non è aggettivo, è sostantivo ormai, no? Ormai è tipo un nome che ho acquisito. Ormai non sono più neanche Alessandro, sono l'edicolante con l'A davanti, tra l'altro. Giusto. A edicolante per chi vuole fare il pignolo. Giusto. E quindi sono qua, ecco. Allora, l'abbiamo raccontata la vostra storia già un paio di volte. eravamo venuti, avevamo avuti ospiti qui. Insomma, finalmente l'edicola Lambrate ha aperto, riapre, anzi, dopo anni, appunto, l'edicola Lambrate e riapre sotto una veste, anzi, una veste molto più moderna e al passo coi tempi. Beh, quello sì. Sì, speriamo lo dicano anche chi ci viene a trovare. Tu sei passato, ci siamo beccati sabato, il giorno dell'apertura. Un po' hai visto come abbiamo scelto di allestire. Adesso è ancora un po', come dire, il primo allestimento, però ci sono i giornali, le riviste, ci sono i libri. Eh, tanti libri. Ci sono indipendenti e non, quindi diciamo che la scelta è lì. La scelta grossa che vogliamo fare è quella di dare tanto spazio a chi spazio non ne ha molto, diciamo, nei circuiti classici, quindi nelle librerie di catena, piuttosto che in altre realtà come altre edicole, no? Cioè, le edicole si trasformano sempre più in bazar, in mercati un po' per sopravvivere, no? Giusto, 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 giusto. Perché cerchi di raccimolare quello che puoi da chi puoi. E noi questo vorremmo evitarlo anche solo per una questione, diciamo, di progettualità. No, ma la cosa divertente è che lo fanno anche i giornali, perché, appunto, anche a voi può capitare, vedevo, c'era adesso, non mi ricordo quale rivista, che tipo aveva in omaggio l'orologio, l'altro ieri ho visto. Ma stai scherzando? Ti faccio vedere le cose che sono arrivato. Subito, no? Tu ci provi anche a tenere un livello alto, come dire, quindi prendi libri, dipende di tutti. Poi ti arriva la classica rivista che chiunque compra abbia un'edicola, ma c'è dentro la flip-flop, l'orologio, il ventaglio, c'è dentro tutto. Esatto, guarda, poi la cosa a cui noi teniamo è che l'edicola è un'edicola, quindi, di fatto, tutto quello che ci arriva, che è popolare, quindi che la gente vuole trovare in un'edicola, ci sarà. Ah, le riviste, oggi, Vanity Fair, gente di più tv, quelle si troveranno sempre, e noi vogliamo essere quanto più orizzontali possibile per dare modo a tutti di trovare un pezzo di loro in edicola, ecco, quindi quelle le troverai, ma se ti faccio vedere quello che mi è arrivato oggi, io non sapevo neanche dell'esistenza di alcune cose, mi sono arrivati dei divutivi, sono arrivati delle... Cavalli e Segugi, il famoso Cavalli e Segugi di Bridget Johnson, non ce l'ha ancora, non ce l'ha ancora. Mi è arrivato un fantastico Confidenze, mi è arrivato un ensile sulla vela, quindi se qualcuno è appassionato di vela ne ho due copie. Ottimo, ottimo. No, ma senti, ma io voglio sapere invece l'emozione che hai provato sabato, cioè ho visto che stai girando un filmato sui social di questo momento, quando è arrivato il furgone delle consegne dei quotidiani. Per la prima volta l'hanno consegnato, cioè, alle 5 del mattino, tra pari. Allora, l'emozione, la prima, quando scendi dal letto alle 4 e mezza, quindi quella è un'emozione che... Devo ancora definire un pochino, però di sicuro quando è arrivato il Corriere all'alba, perché la cosa bella è che io qui vedo l'alba la mattina, adesso che siamo in questo periodo di, diciamo, primavera avanzata. Io l'alba in Conte Rosso la vedo quando arrivo e il Corriere è stato fantastico perché ti porta le casse e capisci anche quanto pesano per tirarle dentro, anche lì, cioè, sembrano cose che uno dice, ma cosa sarà mai? In realtà, in realtà, gli edicolanti fanno un lavoro anche fisico, quello l'ho imparato subito dal primo giorno, sollevare, trasportare, mettere, togliere, e per me è stata un'emozione, come l'ho scritto nella nostra newsletter, no? Il primo giorno è stato come hissare la bandiera sulla nave dei pirati, di cui leggevamo da piccoli, no? Le saracinesche per me sono state quelle, ho tirato su le saracinesche, mi sembrava di aver hissato una bandiera, quindi... E allora, Alessandro, veleggia, veleggia verso la grande via Conte Rosso, che tra me si sa che doveva esserci un porto tantissimi anni fa, i romani avevano fatto un porto da quelle parti, pensa te, ti regalo questa cosa qui, quindi la metafora della navigazione può continuare, e quindi ti auguro buonissima navigazione, caro Alessandro, lo auguro anche a Edicola Lambrate e complimenti ancora appunto per il vostro progetto, che abbiamo appunto raccontato, dai velocemente le credenziali, le coordinate social per seguirvi? Pagina Instagram, Edicola Lambrate, chi vuole per la mail, che è un po' più perfezionista, edicolambrate.com, ci trovate lì. E allora potete tranquillamente appunto seguire tutto quello che è Edicola Lambrate e anche andate a fare un saluto ad Alessandro, che insomma dalle cinque e mezza è lì, quindi vi aspetta, va bene. Alessandro, grazie, buon lavoro e complimenti ancora. Grazie mille a tutti, buona giornata. E allora andiamo avanti con la musica e ringraziamo ancora Alessandro Ghidini appunto di Edicola Lambrate, in collegamento da Lambrate, con noi, musica! Pink Floyd con Money alle 7.39 minuti, vedo che è stata apprezzata questa scelta dell'ufficio programmazione di Crystal Radio, perché Nello ci scrive al 3317853555 Money alle 7.30, ma questa è una radio vera, ebbene, devi fare i complimenti appunto all'ufficio programmazione che dà sempre grandi perle, non solo ormai al puntora, no? Alle 8, alle 7, alle 9, insomma, non ve ne so dire tutti i 24, avete capito, alle 0-0 di ogni ora con il Crystal History, non solo lì, ma anche appunto durante la nostra rotazione, perché questo è bello, cioè sono canzoni che vanno in rotazione, non che così scegliamo a mettere lì a caso, cioè, quale altro radio vi mette 6 minuti di canzone, nessun altro radio, non è radiofonico, dicono molti, invece noi siamo ben contenti che il nostro ufficio programmazione ascolti la qualità della canzone, e non la lunghezza della traccia, più o meno, parlerò meno io questa mattina, va bene, chi se ne frega, abbiamo ascoltato un po' di musica buona, quindi grazie anche a Nello che apprezza questa scelta musicale, scelte musicale apprezzate anche dalla regione Lombardia, così sembrerebbe, perché leggiamo da Corriere della Sera a Milano, non parliamo di Pink Floyd, ma parliamo di Mahmood e Omar Pedrini, eccellenze lombarde, i due artisti saranno premiati dalla regione con la rosa Camuna, che è un po' diciamo l'ambrocino d'oro lombardo più o meno, no? Mercoledì, scusate, quindi domani, mercoledì domani, mercoledì 29 maggio, la cerimonia, le motivazioni, Pedrini è protagonista indiscusso della scena rock dagli anni 90, Mahmood ha venduto milioni di copie e sostiene progetti a favore di chi è in difficoltà, e quindi anche la musica è protagonista del premio Rosa Camuna, la più alta onoreficenza istituita dalla regione Lombardia, così appunto la definisce Corriere della Sera a Milano, che verrà consegnata a mercoledì 29 maggio in occasione della Festa della Lombardia, eh? Viva, facciamo festa a tutti quanti. Tra i premiati dell'edizione 2024, appunto, l'ex leader bresciano dei Timoria, Omar Pedrini, su iniziativa del Consiglio regionale, quindi il Consiglio regionale ha proposto Pedrini, e il milanesissimo Alessandro Mahmood, su indicazioni invece del presidente Fontana, uno dei nomi più importanti della scena musicale contemporanea e già vincitore del Festival di Sanremo, che abbiamo appunto, i riconoscimenti vengono assegnati a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti con sede o operanti in Lombardia, che grazie al loro impegno, operosità, creatività ed ingegno hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Questa quindi è la motivazione appunto che ci sono dietro anche alla scelta del rocker bresciano Pedrini e del milanesissimo Mahmood, e quello che Regione Lombardia fa. Adriana ci scrive un WhatsApp, perché anticipa già il perché io ho letto questa notizia, però volevo fare il passaggio sull'altra, che dice, ok la Rosa Camuna, ma ancora niente patrocinio al Pride. Buongiorno Fabio. È vero sì, Adriana, proprio questa era l'altra notizia che volevo farvi capire, per farvi capire del tenore, no? Infatti io sono curioso di vedere Mahmood cosa farà, nel senso che insomma potrebbe magari così, no? Dire, ma insomma, mi date un primo a me, ma non il patrocinio al Pride. Perché? Leggiamo da Repubblica Milano, no della Lombardia al Pride di Milano. La Regione nega, per l'ennesima volta, ne aggiungo io, il patrocinio alla parata dei diritti arcobaleno del 29 giugno. Benvenuti nella Lombardia del 1625. Quindi perfetto, no? Nel senso, da una parte diamo i premi al rocker Pedrini, no? Perché è un figo. Dall'altra a Mahmood, che sappiamo, insomma, porta in giro comunque un'estetica che non credo sia proprio quella avvezza al presidente Fontana, ma vende milioni di dischi. Quindi riconosciamo il valore economico, e basta a quel punto, mi viene da dire, e non invece sociale, culturale, di un artista come Mahmood. Ma dall'altra parte non diamo il patrocinio al Pride di Milano. Complimenti, come sempre, alla Regione Lombardia, che, insomma, ce la fa sempre a farsi tanti, tanti amici. E allora, proprio però, per ringraziare Mahmood, e non solo per parlare di soldi, ci ascoltiamo. Mahmood con soldi, appunto. Che dovrebbe cantargliela, magari, quando arriva in Regione, che sa. Mahmood con soldi. E continuiamo, però, a leggervi bene la notizia che leggo da Repubblica Milano sul no della Lombardia al Pride di Milano. Perché non è che non viene concesso così, semplicemente, non l'abbiamo dato. No, no, viene votato questo no. E quindi, l'ufficio di presidenza ha votato no. E chi è l'ufficio di presidenza? Facciamo i nomi e i cognomi di chi dice no a un diritto. L'ufficio di presidenza riunisce il presidente dell'Aula di Via, Fabio Filzi, Federico Romani, di Fratelli d'Italia. Poi ci sono i due vice presidenti, Emilio Del Bono, del PD, e Giacomo Basaglia, Cosentino della lista civica, il presidente Attilio Fontana, e i due segretari, la leghista Alessandra Cappellari e il dem Jacopo Scandella. A votare a favore della concessione del patrocinio sono stati soltanto i due esponenti del Partito Democratico. Sia la leghista Cappellari sia il civico Cosentino hanno votato no, sostenendo che si tratti di una manifestazione che si è dimostrata spesso divisiva. Vabbè, provocatoria, vabbè. Ma soprattutto a me fa ridere questo. Discriminante verso il nucleo generatore della vita umana formata da un uomo e da una donna. Complimenti davvero. Scusate, avevo detto 1625 prima. No, no, facciamo 1324. Ok, va bene. Torniamo in una di altri secoli ancora, veramente. A sorpresa, ma non è una sorpresa perché ci fa molto piacere, ha deciso di astenersi, quindi non votare, il Melognano-Romani. Però appunto il patrocinio passa solo se c'è la maggioranza e quindi due contrari, due favorevoli e un astenuto non passa il patrocinio. Come dicevo prima, non è la prima volta e non si tratta di un caso isolato. Anzi, è quasi sempre andata così, tranne un periodo breve tra il 2014 e il 2016 quando per tre anni di fila, grazie al voto dell'allora vicepresidente del Pirellone, il leghista Fabrizio Cecchetti, venne concesso il patrocinio alla manifestazione organizzata dalla comunità LGBTQIA+. Non con poche polemiche, perché insomma appunto Cecchetti faceva parte della Lega e Maroni, che era il presidente di regione all'epoca, non è che vedeva questa cosa molto di buon grado, tant'è che alla fine Cecchetti nel 2017, al quarto anno, si astiene e molla il colpo e da quel momento, nel 2017 in avanti, mai più il patrocinio alla Pride. Non è solo una cosa così tanto simbolica, vuol dire davvero non voler accettare da una parte che il mondo sia andato avanti e ci sono delle cose che succedono, a prescindere dal fatto se voti sì o voti no, cara la mia regione Lombardia. Ma soprattutto quello che a me lascia davvero estere fatto è che nelle motivazioni si taccia il Pride di essere discriminante verso qualcuno o qualcosa. Una delle manifestazioni più inclusive che io abbia mai visto in vita mia. ci si può andare che si faccia parte sì o no della comunità LGBTQIA+, si può andare con la propria moglie, col proprio marito, anche se si è marito e moglie di uomo e donna come vorrebbe, com'era, il nucleo generatore della vita umana formato da un uomo e da una donna. Ecco, si può andare anche, anche in quel caso potete andare al Pride e non verrete discriminati. Ve lo diciamo proprio quello. Guardate, due uomini che si baciano, due donne che si baciano, due uomini che si sposano, due donne che si sposano, non vanno a minare il vostro matrimonio, carissimi amici della regione Lombardia. Anzi, quello che va a minare i nostri etero matrimoni sono ben altre cose e di solito non hanno a che fare minimamente con il mondo LGBTQIA+. Quindi, insomma, davvero, trovo che per l'ennesima volta abbiamo dato una bella dimostrazione di come la regione Lombardia, e, ahimè, noi facciamo parte di questa regione, non sia minimamente al passo con i tempi. E questa cosa davvero fa male. Fa male a chi è dentro nella comunità, sicuramente, fa male, vi dico la verità, anche tantissimo, a chi è fuori da quella comunità ma che vede comunque dei propri concittadini non avere diritti ed essere discriminati, loro sì, davvero, dalle istituzioni. Gali con Caritalia, appunto, Caritalia, cara signora, insomma, molto meno cara a regione Lombardia, vorrei dire, in questo momento. Comunque, parliamo invece di musica, torniamo a parlare di musica, torniamo a parlare di cose belle che succedono, come, ad esempio, il concertozzo di domenica 26 maggio allo stadio di Monza per Monza Out. Sto parlando di Elio e le storie tese. Bene, sì, da sabato 25, una due giorni di musica dal vivo impegno sociale nata dall'esperienza di due padri di ragazzi autistici, Elio e Nico Acampora, il fondatore di Pizza Out. Promette di essere la prima Woodstock italiana dell'inclusione. La definizione è di Stefano Belisari, cioè Elio dell'Elio, le storie tese, che sarà su il palco della U Power Stadium di Monza domenica 26 maggio per il concertozzo allo stadiozzo. E il 26 maggio, appunto, è la giornata della musica con tutto la cricca, no? Quindi Elio, Sergio Conforti, Davide Civaschi, Nicola Fasani, Christian Meyer, Antonella Guzzi, cioè le storie tese, di nuovo insieme dallo scorso giugno e con l'inclusione ovviamente dei colleghi, posso dirlo in questo caso, dei colleghi della trio Medusa. La festa nel nome dell'inclusione e dell'integrazione sociale e lavorativa integrerà già da sabato 25 maggio, inizierà, scusate, già da sabato 25 maggio, in Piazza dell'Arengario di Monza con la prima edizione di Monza Out che vede, appunto, anche il Corriere della Sera da cui sto leggendo notizia come media partner. Tutto quanto, appunto, nasce dall'idea di due padri di ragazzi autistici, da una parte, appunto, Elio, che è il papà del 14enne Dante e di Nico Acampora che è il fondatore di Pizza Out, quella famosa pizzeria, insomma, che quando ha aperto l'ultimo negozio pure il Presidente della Repubblica è andato, quindi, insomma, roba seria, sto dicendo, roba che ha a che fare. Ah, ho sbagliato. Come se il 25 era sbagliato? Ah, ho letto sbagliato. Ho sbagliato, ragazzi. Sto leggendo le date, ma sabato, domenica 26 maggio era l'altro ieri, oggi è il 28. Vabbè, volevo raccontare che è successo, infatti. Vabbè, comunque, niente, ho sbagliato. Succede a volte. Non so come mi è rinfinito l'ultimo negozio di oggi. Vabbè, ascoltiamoci Elio, allora, dai, avanti. E benvenuti ad Errata Corige, così lo chiameremo questo programma, dopo la minchiata che ho detto, possiamo dire minchiata, l'ho detto due volte, bene, che ho detto poco fa prima di andare, cioè vi ho letto una notizia, convinto che fosse una cosa che succedeva questo weekend, quando invece è successa l'weekend scorso, perché il concertozzo allo stadiozzo c'è stato, è andato benissimo, è andato il weekend scorso. Dopodiché ho cercato, quindi ho detto, fatemi vedere come è andato, ho cercato la notizia, un sito da parla, Monza Today, gli altri, tutti fermi a domenica mattina a dire questa sera ci sarà, questa sera ci sarà, nessuno che vi racconta cosa. In più ho letto chi sarebbe stato Sergio Conforti nella Storia Tese, giustamente, Nello mi dice, e non c'era neanche Sergio Conforti, ma c'era Vittorio Cosma, grande Vittorio Cosma, però qui posso alzare le mani, perché nel senso è la scritta Corriere della Sera, che è media partner, quindi fatti loro, fatti loro, io non voglio sapere niente. Comunque, otto ore di musica, due ore e mezzo di concerti e migliaia di spettatori, successo a Monza per il concertozzo di Elio e le storie intese insieme al Treomedusa, leggo da Monza Today. Il concerto, siamo contentissimi perché abbiamo dimostrato ancora una volta che riusciremo, riusciamo a essere un passo avanti inventando una formula che coniuga la musica di qualità al divertimento e all'utilità sociale, non vediamo l'ora di inventare altre figate, questo è il commento a caldo dopo l'esibizione monzese da punto di domenica di Elio e le storie tese. Il concertozzo, appunto terza edizione del concertozzo, questa volta però appunto con anche diciamo il sostegno e anzi proprio l'avere proprio inserimento di di Pizza Out, anche appunto, quindi la storia dei padri autistici quella rimane, anche se è stato weekend prima o weekend dopo, nel senso, quella rimane, ma rimane soprattutto una importante giornata dove anche ci sono stati dieci e altre esibizioni di altri cantanti tra cui ad esempio l'esibizione dei Vicentini elettrofunk I Sordi, poi Caterina Comeglio, Chiara L'Altra, Elton Novara, Carlo Poddige, poi c'era anche l'inventore del Creepy Rock Peppy One, La Via dell'Ironia che è una rock band totalmente al femminile, poi c'era anche gli eredi legittimi così li scrive Monza Tudè, gli eredi legittimi di Elio lo storietese, cioè i The Parkside of the Moon, poi c'era Fabio Celenza, poi c'era anche Aurobo Reale e Martelli che hanno appunto chiuso il concertozzino alle 20.30 per poi dare appunto la palla al concertozzo con Elio e anche matatore diciamo così Nico Acampo appunto di Pizzaut quindi insomma c'erano anche gli sgusciati che abbiamo avuto anche loro qui con gli abbiamo avuti ospiti qui appunto dell'associazione La Tenda di Bollate insomma tante associazioni che sono passate e hanno appunto coniugato l'impegno sociale il far conoscere sempre di più e sempre meglio tutto quel mondo legato ai vari autismi e poi appunto anche la grande musica di qualità e il divertimento insomma una grande esperienza quella che è avvenuta leggo appunto sull'unico articolo che ho trovato che ricorda che parla e racconta di quello che è successo però insomma l'ha fatto cioè lo racconta con un grande entusiasmo perché davvero anche le immagini che si vedono testimoniano di una bellissima iniziativa che speriamo possa avvenire di nuovo presto e quindi grazie ancora a Elio Le Storie Tese grazie a Nico Acampo grazie a Altrio Medusa insomma a tutti coloro che si sono messi in campo per questa bellissima iniziativa Nemo The Code vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024 per la Svizzera andiamo avanti con le notizie leggiamo da Corriere della Sera a Milano notizie che arrivano appunto dalla città dispersione scolastica la ricerca dice che a Milano cresce dove le case costano meno ci vuole una ricerca per questa roba comunque picchi del 24% dei bandoni nella periferia sud-est in alcuni quartieri uno studente su tre almeno ha almeno una bocciatura alle spalle il ministro valitare dice investimento 34 milioni per le scuole di periferia ministro ma tutti quanti ve lo dico già non serve a nulla investire cioè nel senso investite nelle scuole perché le scuole hanno bisogno di soldi sì ma non è che aiuta questa cosa qui il problema della dispersione scolastica in quei quartieri la dispersione scolastica avviene fuori dalle scuole non nelle scuole avviene perché fuori dalle scuole c'è qualcosa che è più attrattivo della scuola ma non lo batti facendo la scuola più attrattiva perché non è più attrattiva di quello che c'è fuori cioè della strada la comunità e tutto quanto cioè la comunità fuori deve diventare una comunità che spinga per far sì che questi ragazzi e questi ragazzi invece vadano a scuola in più c'è un tema che allora lì va bene 34 milioni di euro forse non so non basteranno ma speriamo che possano servire sul rendere attrattiva la scuola e quindi lì però non è solo mettendo soldi e rifacendo le aule oppure chissà quali portando chissà quali progetti all'interno delle scuole perché all'interno delle scuole soprattutto di periferia è pieno di progetti sociali è stra pieno di progetti sociali ma com'è che noi continuiamo a fare i progetti sociali nelle scuole e qui aumenta la dispersione scolastica forse perché davvero c'è un mondo fuori che è troppo dispersivo c'è un mondo fuori che non ha intenzione di spingere per cui questi studenti rimangono all'interno della scuola e all'interno della scuola ci sono forse dei corpi docenti ci sono delle dirigenze ci sono delle dinamiche che non sono all'altezza ma non perché non hanno voglia o cosa perché proprio non hanno gli strumenti per riuscire a gestire questa situazione e allora forse va fatto un ragionamento un bel po' più ampio questo è quello che penso da sempre sul tema della scuola ma non sono solo io a pensarlo sono venuti qua spesso e ventieri anche i sindacati a parlarne della scuola sono venuti spesso e ventieri associazioni di genitori a parlare della scuola che anche lì se c'è un'associazione di genitori siamo già molto più avanti del punto in cui si parte nel senso che se i genitori si interessano a quello che succede nelle scuole beh allora li abbiamo già fatto bingo il problema è che in questi quartieri che stiamo andando a leggere in questi quartieri che raccontiamo il problema è proprio che le famiglie non interessa minimamente quello che succede a scuola e quindi alla scuola c'è lo sbando più totale e sappiamo che è uno sbando davvero davvero forte a volte anche violento e quindi bisogna comunque riuscire a intervenire ripeto non solo nell'ambito educativo della scuola ma nell'ambito più ampio di tutti il territorio quartiere territorio e quindi anche istituzioni cittadine che devono mettersi a dialogare tra di loro ma soprattutto forse ad ascoltare perché quello che dico sempre adesso lo dico male ma se è più attrattivo avere l'ultimo modello di un telefonino oppure avere la borsa griffata oppure sperare che nel futuro qual è il tuo futuro avere una macchina super sportiva per fare le sgommate all'interno del quartiere beh allora lì davvero la guerra è impari perché vincerà sempre quella parte là vincerà sempre la parte del marketing la parte delle grandi aziende che non lo fanno poi cioè non è che sto dicendo brutte e cattive nel senso però dopo vengono appunto però prese come punti di riferimento quando magari invece i punti di riferimento sarebbe meglio che all'interno di certe comunità siano altre ci sono cerchiamo di sviluppare questi punti di riferimento che è fondamentale che si sviluppino per fare davvero una grande comunità intorno a questi ragazzi e queste ragazze che non devono avere la voglia di andarsene dalla scuola scrivi le scemo pinguini tattici nucleari rimaniamo sempre nel tema della scuola ma questa volta andiamo all'università per leggere una notizia da Corriere della Sera Milano su cui avrei da ridire ma oggi stamattina sono polemico però comunque sono polemico prima sbaglio le notizie e poi dopo sono polemico vabbè rette universitarie meno di due studenti su dieci hanno l'esonero totale la ricerca dell'osservatorio Talents Venture la statale dice aiuti anche per la fascia media ma poi si va a leggere l'articolo e vi dico cosa dice allora in Italia uno studente su tre ovvero il 33% nell'anno accademico 2021-2022 questi sono gli ultimi dati che abbiamo pensate voi non ha pagato nulla per frequentare l'università ok quindi il 33% non ha pagato l'università perché rientra nelle fasce che non devono pagare niente va bene quindi il 30% degli italiani che hanno dato l'università mi sembra una buona percentuale a Milano la percentuale scende al 17% cioè solo due studenti su dieci all'incirca hanno frequentato gratuitamente gli studi quindi meno del 20% dal 33% scendiamo al 17% ok e quindi mi viene da dire beh cavolo allora c'è un problema Milano nel senso che è un grosso problema nel senso che vuol dire che molto probabilmente chi è meno abbiente chi non può non viene a studiare Milano perché la città è cara e quindi non riesce a pagare la retta scolastica non può permettersi di vivere qui e quindi non accede neanche alle fasce di garanzia protette come si chiameranno borsa di studio come si chiamano comunque ma poi vado avanti a leggere tra gli atenei pubblici la statale ha il numero più alto di iscritti non paganti il 34% ma come quindi mi viene da dire il dubbio ma aspetta ferma 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 quindi se la media nazionale è 33% ma la statale 34% in realtà a Milano alla statale c'è il più grande numero di studenti che frequentano senza pagare l'università che giustamente ma che bello cioè che bello si chiama statale quindi che bello poi cosa succede segue la bicocca con il 29% insomma anche quella è bella alta come media e il Politecnico comunque con il 21% quindi è bella alta anche quella e il percentuale più esiguale per le private che si va dal 12% da Bocconi alla Cattolica IUM solo 9-8% o al 5% alla Sara Fele ma grazie al ministero cioè nel senso è ovvio che sia così nel senso allora ecco perché Milano ha il 17% di percentuale di gente che non paga perché abbiamo tutte le più grandi università private d'Italia per fortuna sono a Milano e quindi giustamente mi viene da dire se poi permettete quella università lì te la paghi quasi tutta nel senso non dico tutta ma riesci a pagare tutta e quindi ci sta ma anzi io sono ben contento che chi magari non ha la possibilità di andare ad un'università super privata vada invece alla statale che accoglie il 34% di persone cioè io penso che sia una bella notizia questa non una notizia brutta vuol dire che Milano è accogliente vuol dire che Milano accoglie coloro che nonostante sia una città carissima nonostante sia 800 euro al mese per una stanza in condivisione con altri tre che gli puzzano i piedi nonostante quello voi potete venire a Milano a studiare all'università statale di Milano perché perché rientrate nelle fasce per cui non dovete pagare la retta beh viva Milano allora a questo punto poi ovvio che se vai alla San Raffaele o alla Yulm o alla Cattolica paghi ma non mi sembra che sia questa grande rivoluzione cioè ovvio che poi fai la media del pollo e quindi poi viene fuori che a Milano solo il 17% di studenti non pagano l'università ma ovvio perché gli altri hanno la possibilità e i beati loro che ce l'hanno perché se ci avessi avuto io l'avrei fatto anch'io beati loro che ce l'hanno di poter andare a spendere dei soldi per una giusta e alta anche qualità di offerta formativa non so e a me queste notizie sempre mi lasciano un po' esterrefatti comunque vabbè andiamo avanti con la musica Just an Illusion Kaleen We Will Rave dall'Eurovision 2024 ma sicuramente l'avete sentita sotto dai c'è quel giro lì sotto che l'avete sicuramente riconosciuto questa canzone è di qua di Kaleen dell'Austral per l'Eurovision 2024 2024 facciamo un salto indietro nel 1994 quando c'era quel suono lì si l'hanno preso da un'altra canzone loro erano Ice MC e la canzone Think About The Way Ice MC Think About The Way questo alle 8.43 insomma due volte di seguito lo stesso riff non so quante radio lo mettono dentro però insomma volevo farvelo sentire appunto dal 2024 con la canzone che ha portato l'Austria all'Eurovision al 1994 da cui arrivava invece il sample originali eh sì è finita è finita non è che è finita ieri l'altro ieri adesso vado a vedere le date degli articoli prima che vi dico cose poi sbagliate prima che non si trovano queste date è finita è finita ieri la campada alla statale smontate le tende dopo il fascicolo aperto in procura e le riunioni del senato accademico gli animatori della protesta dopo giorni hanno smontato le tende per dirigersi in corteo verso la sede del conselato degli stati uniti fine quindi dell'occupazione alla statale gli studenti hanno deciso di smontare le tende della protesta pro palestina una scelta maturata è un'assemblea cominciata in coda al senato accademico riunito in via straordinaria dopo il vertice della crui della settimana scorsa una riunione qua dell'organo di governo dell'università che si è conclusa con la condanna netta dell'ateneo della tragedia umanitaria in corso a Gaza ma allo stesso tempo con la denuncia del crescente degrado negli spazi di via festa del perdono e la richiesta formale della fine dell'occupazione iniziata il 10 maggio comunque 17 giorni di occupazione dai pro palestina per garantire appunto il diritto allo studio di tutti quindi si smontano si smontano e basta via le tende ma continua comunque l'agitazione ovviamente di buona parte di una bella parte non buona un buon numero di studenti all'interno della statale che insomma continuano comunque ad agitare diciamo in agitazione come si dice in questi casi anche i sindacali non si dice così in agitazione gli studenti ovviamente in solidarietà con quello che sta succedendo a Gaza insomma una tremenda piaga umanitaria che sta avvenendo appunto in questi giorni all'interno di quella di quella zona insomma come dicevo smontate le tende ma continua comunque appunto la protesta degli studenti andiamo con un po' di musica ancora e poi torniamo qui appunto a salutarci qua su Crystal Radio Good Morning Milano Madonna con M Gap alle 8 e 50 minuti quasi in chiusura di trasmissione ma ancora in tempo per poter mandare una canzone sì abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare ancora un po' di musica ancora un brano qui su Crystal Radio qui a Good Morning Milano come sempre in diretta fino alle 9 e grazie anche per tutti i Whatsapp che ci state mandando al 3317853555 grazie anche ad Ambrogio che ci ha scritto un bel pezzo riprendendo un testo un brano diciamo un pezzo di brano della collina dei ciliegi di Lucio Battisti grazie mille per la dedica ma continuiamo appunto con la musica no non è Lucio Battisti ma è qualcosa di un po' più movimentato anche se attenzione perché Battisti nell'animo era un grande rocker vi invito ad andare ad ascoltare alcuni pezzi dove davvero si sente d'anima rock di Lucio ma adesso invece ascoltiamo Emma Louise con My Head is a Jungle 8 e 55 minuti martedì martedì 28 maggio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano pronto ai blocchi di partenza dopo di noi dopo il giornale radio intorno alle 9.05 Ambrogio Sant'Ambrogio Curti che insomma ci farà sentire ascoltare raccontare cantare ballare insomma la grande musica nazionale ed internazionale raccontata appunto dalla preparatissima voce di Ambrogio Curti in Senti Questa dopo di noi dopo il giornale radio alle 9.05 più o meno e sì noi comunque torniamo anche domani siamo sempre qui dalle 7 alle 9 per raccontarvi un po' la città leggere i giornali leggere le notizie magari quelle giuste non quelle sbagliate sarebbe meglio ma insomma ogni tanto capita anche ai migliori che non sono io quindi per quello che mi capita più spesso di altri la falsa modestia è quello che ci contraddistingue nel nostro più grande e più importantissimo show della mattina sì Good Morning Milano il morning show dei milanesi il più importante morning show di tutte le radio del globo giustamente da giornalista devo dire la fonte della notizia che sono me stesso pronti a iniziare la giornata? siete pronti a iniziare la giornata? ma molti di voi l'hanno già iniziata da ora e ora appuntamento quindi a domani dalle 7 alle 9 qui su Cristal Radio con una nuova spumeggiante e intraprendente puntata di Good Morning Milano grazie a tutti quanti voi per l'ascolto grazie alla regia grazie a Lisa grazie a domani ciao grazie a tutti